Signor Presidente, parlavo con lei che magari ha una conoscenza maggiore. Lei non è buon anno, deve parlare, le sono rimasti 22 secondi, finiti quelli non parla più. Io posso anche parlare di più se vuole. Le sto però dicendo, visto che lei è stato il paladino contro il porcello, mi dica lei, la faccio io la domanda a lei, signor Presidente, come fa lei a passare a votare questa cosa? Come fa lei ad andare in televisione a dire che questa è la cosa migliore? Mi lo dica lei, signor Presidente. Grazie, onorevole Buonanno. Non ho altri... Ah, onorevole... Con calma, presidente Sisto, aveva chiesto la parola al presidente Sisto prima, onorevole Fiano e poi onorevole Richetti. Semplicemente come presidente della Commissione... Onorevole Buonanno, la richiamo all'ordine. Onorevole Buonanno, la richiamo per la seconda volta. Onorevole Buonanno, la espello dall'Aula. Per favore, onorevole Buonanno, la prego di uscire dall'Aula. La prego di uscire dall'Aula. Onorevole Buonanno, la prego di uscire dall'Aula. Onorevole... Prego i commessi intanto di togliere il megafono. Grazie. E l'onorevole Buonanno deve uscire dall'Aula. Onorevole Buonanno, la prego. Onorevole Buonanno, la prego di uscire dall'Aula. Si accomodi fuori dall'Aula, onorevole Buonanno. Onore Bonanno, la prego di uscire dall'aula.